Ero abituato a qualche stranezza di tanto in tanto, ma di solito passavano alla svelta. Questa allucinazione a tempo pieno stava diventando insopportabile. Per il resto dell'anno scolastico sembrò che tutta la scuola si prendesse gioco di me. Gli studenti si comportavano come se fossero convinti che la signora Kerr, una pimpante biondina che non avevo mai visto in vita mia finché non scese dall'autobus alla fine della gita, fosse stata la nostra insegnante di matematica fin da Natale. Ogni tanto buttavo là un accenno alla Dodds per coglierli in contropiede, ma mi guardavano come se fossi uno psicopatico. Quasi ci credevo anch'io ormai che la Dodds non fosse mai esistita. Ho detto quasi. Grover non poteva fregarmi. Quando gli nominavo la Dodds, lui esitava sempre prima di dichiarare che non esisteva, ma io sapevo che mentiva. Stava succedendo qualcosa. Al museo era successo qualcosa. Non avevo molto tempo per pensarci durante il giorno, ma di notte mi svegliavo in un bagno di sudore freddo, con l'immagine della Dodds munita di artigli e ali da pipistrello davanti agli occhi. Il tempo intanto continuava a fare il matto e ciò non migliorava affatto il mio umore. Una notte un temporale sfondò le finestre della mia camera. Pochi giorni dopo, il tornado più grosso che si fosse mai visto nella Hudson Valley si abbatté a soli 80 chilometri dalla Yancy Academy. In classe leggevamo spesso sul giornale dell'insolito numero di piccoli aerei precipitati nel corso dell'anno a causa di burrasche improvvise sull'Atlantico. Ero nervoso e irritabile per la maggior parte del tempo. I miei voti precipitarono dal 5 al 4 e mi sbattevano nel corridoio quasi a tutte le ore. Alla fine, quando il signor Nicoli, il prof d'inglese, mi chiese per la milionesima volta perché fossi troppo svogliato per prepararmi in ortografia, sbottai. Lo chiamai Vecchio Beota. Non sapevo nemmeno cosa volesse dire, ma suonava bene. Il preside mandò una lettera a mia madre la settimana dopo, ufficializzando la cosa. L'anno seguente non ero invitato a tornare alla Yancy. Bene, mi dissi, benissimo. Avevo nostalgia di casa. Avevo proprio voglia di stare con mamma nel nostro appartamento nell'Upper East Side, anche se significava frequentare la scuola pubblica e sopportare il mio rivoltante padrigno e i suoi stupidi amici del poker. Eppure, certe cose della Yancy mi sarebbero mancate. La vista dei boschi dalla finestra, il fiume Hudson in lontananza, il profumo dei pini. Avrei sentito la mancanza di Grover, che era stato un buon amico, anche se era un po' strano. Mi chiesi come sarebbe sopravvissuto il prossimo anno, senza di me. Avrei sentito anche la mancanza delle ore di latino e del signor Brunner, con i suoi folli tornei e la sua convinzione che io potessi essere un bravo studente. Con l'avvicinarsi della settimana degli esami, studiai solo per il compito di latino. Non avevo dimenticato quello che il signor Brunner mi aveva detto sul fatto che la sua materia fosse per me una questione di vita o di morte. Non sapevo perché, ma cominciai a credergli. La sera prima degli esami, persi talmente la pazienza che scagliai il libro di mitologia greca in fondo alla stanza. Le parole si erano messe a roteare fuori dalla pagina, girandomi attorno alla testa, con le lettere che si lanciavano in acrobazie come su uno skateboard. Non sarei mai riuscito a ricordare la differenza tra Chirone e Caronte, fra polidette e polideuce, e la coniugazione di tutti quei verbi latini? Impossibile. Camminai avanti e indietro per la stanza come se avessi le formiche sotto la maglietta. Ripensai all'espressione seria del signor Brunner e ai suoi occhi millenari. «Pretenderò solo il meglio da te, Percy Jackson». Feci un respiro profondo e raccolsi il libro di mitologia. Non avevo mai chiesto aiuto a un insegnante prima di allora. Forse, se avessi parlato con Brunner, mi avrebbe dato qualche dritta. Almeno potevo scusarmi per lo splendido quattro che stavo per prendere al suo esame. Non volevo andarmene dalla Yancy lasciandogli l'impressione che non ci avessi provato. Scesi al piano di sotto, dove c'erano gli uffici dei professori. La maggior parte erano bui e vuoti, ma la porta del signor Brunner era accostata e la luce del riquadro di vetro si allungava sul pavimento del corridoio. Ero a tre passi dalla maniglia quando sentì delle voci provenire dall'interno dell'ufficio. Brunner aveva fatto una domanda. Una voce, che era decisamente quella di Grover, stava dicendo «Preoccupato per Percy, signore, mi bloccai». Di solito non sono un occhioriglia, ma vi sfido a non farlo se sentite il vostro migliore amico che parla di voi con un adulto. Mi accostai ancora un po'. «Da solo questa estate», stava dicendo Grover. «Voglio dire, una delle benevole a scuola. Adesso che noi ne siamo sicuri e che anche loro ne sono sicuri, peggioreremmo solo le cose mettendogli fretta», rispose Brunner. «Il ragazzo deve maturare». «Ma forse non ne avrà il tempo. La scadenza del solstizio d'estate...» «Si dovrà risolvere senza di lui, Grover. Lasciamo che si goda la sua ignoranza, finché può». «Ma, signore, l'ha vista!» «La sua immaginazione», insistette Brunner. «La foschia gettata sugli studenti e sugli insegnanti basterà a convincerlo». «Signore, io... io non posso mancare i miei doveri un'altra volta!» La voce di Grover era soffocata dall'emozione. «Sa cosa significherebbe...» «Non hai mancato i tuoi doveri, Grover», ribatte Brunner in tono gentile. «Avrei dovuto riconoscerla. Ora preoccupiamoci soltanto che Persi sopravviva, almeno fino al prossimo autunno». Il testo di mitologia mi cadde dalle mani, atterrando sul pavimento con un tonfo. Il signor Brunner ammutò lì all'istante. Con il cuore in gola raccolsi il libro e arretrai nel corridoio. Un'ombra passò dietro il vetro illuminato della porta dell'ufficio di Brunner. L'ombra di qualcosa di molto più alto del mio insegnante in sedia a rotelle. Qualcosa che aveva in mano un oggetto simile ad un arco. Aprì la porta più vicina e sgattai olai dentro. Pochi secondi dopo sentì un lento clop, 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 come di ceppi di legno ovattati che cadessero sul pavimento. E un verso, come di un animale che tirasse su col naso proprio davanti alla porta. Una grossa sagoma scura si fermò di fronte al vetro. Proseguì. Una goccia di sudore mi scese lungo il collo. Da qualche parte nel corridoio il signor Brunner parlò. «Nessuno», mormorò. «Ho i nervi a pezzi dal solstizio d'inverno». «Anch'io», disse Grover. «Ma avrei giurato...» «Torna nel dormitorio. Ti aspetta una lunga giornata di esami domani. Non mi faccia pensare». Le luci dell'ufficio del signor Brunner si spensero. Aspettai al buio per quella che mi sembrò un'eternità. Alla fine sgattaiolai nel corridoio e tornai nel dormitorio al piano di sopra. Grover era disteso sul letto, a studiare gli appunti di latino, come se non si fosse mai mosso di là per tutta la sera. «Ehi», mi fece con gli occhi annebbiati. «Pronto per l'esame?» Non risposi. «Hai una faccia», si accigliò. «Stai bene?» «Sono solo... stanco». Mi voltai in modo che non vedesse la mia espressione e cominciai a spogliarmi. Non capivo quello che avevo sentito al piano di sotto. Volevo credere di essermi immaginato tutto. Ma una cosa era chiara. Grover e il signor Brunner stavano parlando alle mie spalle e pensavano che fossi in pericolo. Il pomeriggio dopo, mentre uscivo dall'aula dopo tre ore di esame di latino, con ancora davanti agli occhi tutti i nomi greci e romani che di sicuro avevo scritto nel modo sbagliato, il signor Brunner mi chiamò. Per un attimo temetti che avesse scoperto che li avevo spiati la sera prima. Ma, a quanto pareva, il problema non era quello. «Persi», disse. «Non scoraggiarti per il fatto di lasciare la Yancy. È... è la cosa migliore». Il tono era gentile, ma... le parole mi imbarazzarono lo stesso. Anche se parlava sottovoce, gli altri ragazzi che stavano finendo l'esame potevano sentirlo. Nancy Bobofit soghignò e mimò dei bacetti strafottenti con le labbra. Mugugnai. «Ok, signore». Insomma, il signor Brunner dondolava avanti e dietro con la sedia, come se non sapesse cosa dire. «Questo non è il posto giusto per te. Era solo questione di tempo. Mi bruciavano gli occhi. Ecco il mio insegnante preferito che davanti a tutti mi diceva che non potevo farcela. Dopo avermi ripetuto per tutto l'anno che credeva in me, ora mi diceva che ero destinato a essere buttato fuori. Giusto», dissi tremando. «No, no», riprese Brunner. «Maledizione, quello che sto cercando di dirti. Tu non sei normale, Persi. Non è niente di cui... Grazie», sbottai. «Grazie mille, signore, di avermelo ricordato. Persi. Ma me ne ero già andato. L'ultimo giorno del semestre ficcai tutti i miei vestiti in valigia. Gli altri ragazzi se ne stavano là a scherzare e a parlare dei loro progetti per le vacanze. Uno partiva per le Alpi Svizzere, un altro aveva programmato una crociera di un mese ai Caraibi. Erano ragazzi a rischio, come me, ma erano ragazzi a rischio ricchi. I loro paparini erano manager, ambasciatori o celebrità. Io non ero nessuno e venivo da una famiglia che non contava nulla. Mi chiesero cosa avrei fatto per le vacanze e io risposi che sarei tornato in città. Quello che non confessai è che avrei dovuto procurarmi un lavoretto estivo, tipo portare a spasso i cani o vendere gli abbonamenti di una rivista, e che avrei trascorso il tempo libero nell'angoscia di trovare una scuola nuova entro l'autunno. Oh, fece uno dei ragazzi. Forte. Tornarono alla loro conversazione come se non fossi mai esistito. L'unica persona che avevo paura di salutare era Grover, ma alla fine non ce ne fu bisogno. Aveva preso un biglietto per Manhattan sul mio stesso autobus, perciò eravamo di nuovo insieme, diretti in città. Per tutto il viaggio Grover continuò a lanciare occhiate nervose nel corridoio, scrutando gli altri passeggeri. Mi venne in mente che era sempre nervoso e agitato quando lasciavamo la Yancy, come se si aspettasse qualche guaio. Prima avevo sempre pensato che avesse paura dei bulli, ma non c'erano bulli a bordo dell'autobus. Alla fine non ce la feci più. Cerchi le benevole? chiesi. Per poco non cadde dal sedile. Che vuoi dire? Gli confidai di aver origliato lui e il signor Brunner la sera prima dell'esame. L'occhio gli si contrasse in un tic involontario. Quanto hai sentito? Oh, non molto. Cos'è la scadenza del solstizio d'estate? Trasalì di nuovo. Senti, Percy, ero solo preoccupato per te, capisci? Insomma, quelle allucinazioni sulla prof di matematica demoniaca. Grover. E stavo dicendo al signor Brunner che forse eri troppo stressato o roba del genere perché non è mai esistita nessuna signora Dodds e... Grover, sei davvero un pessimo bugiardo. Le orecchie gli si fecero rosse. Dal taschino della camicia tirò fuori un sudicio biglietto da visita. E prendi questo, ok? Casomai avessi bisogno di me durante l'estate. Il biglietto era scritto in una calligrafia piena di ghirigori. Una tortura per la mia dislessia. Ma alla fine riuscì a leggere qualcosa. Tipo Grover Underwood Custode Collina Mezzosangue Long Island New York 800-009-0009 Che cos'è la collina? Piano! Sibilo. È il mio... Indirizzo estivo. Sentì un tuffo al cuore. Grover aveva una casa delle vacanze. Non avevo mai preso in considerazione che la sua famiglia fosse ricca come quella degli altri studenti della Yensi. Ah, ok. Dissi Cupo. Cioè, insomma, casomai volessi venire a trovarti nella tua villa. Lui annui. O casomai avessi bisogno di me. Perché dovrai avere bisogno di te? La domanda suonò più brusca di quanto avessi voluto. Grover arrossì fino al pomo d'adamo. Senti, Persi, la verità è che io devo proteggerti. Lo fissai. Per tutto l'anno avevo fatto a botte per difenderlo dai bulli della scuola. Avevo perso il sonno pensando che l'anno dopo senza di me gliele avrebbero suonate e ora eccolo qui a comportarsi come se fosse stato lui a difendere me. Grover replicai da cosa mi staresti proteggendo esattamente? In quel momento si sentì uno schianto sotto i nostri piedi. Dal cruscotto uscì una fumata nera e l'autobus si riempì di un tanfo di uova marce. L'autista imprecò e procedendo a singhiozzo riuscì ad accostare su un lato della strada. Dopo aver armeggiato per qualche minuto nel cofano annunciò che dovevamo scendere. Io e Grover uscimo dietro gli altri. Ci trovavamo su un tratto di strada di campagna il genere di posto che si nota solo se ci finisci per un guasto. Sul nostro lato c'erano soltanto aceri e rifiuti lanciati dalle auto di passaggio. Dall'altra parte oltre le quattro corsie di asfalto che tremolavano nell'afa del pomeriggio c'era una bancarella che vendeva frutta. La mercanzia sembrava molto appetitosa. Casse traboccanti di ciliegie sanguigne, mele, noci e albicocche. Bottiglie di sidro immerse nel ghiaccio in una vasca da bagno con le zampe. Non c'erano clienti. Solo tre vecchiette su delle sedie a dondolo all'ombra di un acero intente a sferruzzare il più grosso paio di calzini che avessi mai visto. Insomma, erano grandi quanto maglioni. Eppure erano chiaramente calzini. La vecchietta sulla destra ne sferruzzava uno. Quella sulla sinistra ne sferruzzava un altro. La vecchietta al centro reggeva un enorme cesto di filo blu elettrico. Tutte e tre avevano un aspetto decrepito. I volti pallidi e raggrinziti come bucce appassite. I capelli d'argento trattenuti da fazzolettoni bianchi e le braccia ossute che spuntavano da vestiti di cotone scoloriti. Ma la cosa più strana era che sembravano guardare me. Mi girai verso Grover per commentare la scena e vidi che era agitato. Aveva un tic al naso. Grover chiamai. Ehi amico dimmi che non ti stanno guardando non lo stanno facendo vero? Beh sì strano eh pensi che quei calzini mi starebbero bene. Non è divertente Percy non è affatto divertente. La vecchietta al centro tirò fuori un grosso paio di forbici d'oro e d'argento a lama lunga simili a cesoie. Sentì Grover trattenere il fiato. Torniamo sull'autobus mi ordinò muoviti cosa protestai saranno cento gradi là dentro spricati spalancò la porta e salì ma io indugiai dall'altra parte della strada le vecchiette mi stavano ancora guardando quella al centro tagliò il filo e giuro di aver sentito il suono di quella sforbiciata da quattro corsie di distanza le sue amiche raggomitolarono i calzini blu e io mi chiesi per chi li stessero facendo lo yeti o Godzilla dietro l'autobus l'autista strappò un grosso pezzo di metallo fumante dal cofano l'autobus sussultò e il motore tornò in vita i passeggeri esultarono era ora maledizione esclamò l'uomo colpendo il veicolo col cappello tutti a bordo una volta ripartiti cominciai a sentirmi febbricitante come se mi fossi beccato l'influenza grover non sembrava stare molto meglio di me aveva i brividi e batteva i denti grover si cosa mi stai nascondendo si asciugò la fronte con la manica della camicia persi che cosa hai visto in quella bancarella della frutta vuoi dire le vecchiette ma cos'hanno di tanto speciale non sono come come la dozz vero la sua espressione era difficile da interpretare ma ebbi la sensazione che le vecchiette della bancarella fossero qualcosa di molto molto peggio della dozz lui insistette tu dimmi solo cosa hai visto quella al centro ha tirato fuori le forbici e ha tagliato il filo chiuse gli occhi e fece un gesto con le dita che somigliava al segno della croce ma non lo era era qualcos'altro qualcosa di più antico ripete l'hai vista tagliare il filo sì e allora ma perfino mentre lo dicevo sapevo che era qualcosa di grosso questo non sta succedendo borbottò Grover si mise a mordicchiarsi il pollice non voglio che sia come l'ultima volta quale ultima volta sempre in prima media non superano mai la prima media Grover dissi perché stava davvero cominciando a spaventarmi di cosa stai parlando lascia lascia che ti accompagni a casa dalla stazione degli autobus promettimelo mi sembrò una richiesta strana ma glielo promisi di che si tratta è una specie di maledizione o roba del genere chiesi nessuna risposta Grover il taglio del filo significa che qualcuno morirà mi guardò con un'espressione afflitta come se stesse già scegliendo i fiori per decorare la mia bara grazie per aver ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio ciao